Posso dire una cosa? Io non sminuirei questo fatto, perché a parte che è un fatto che ormai ha contagiato tutti i partiti, poi si riempiono la bocca con Berlinguer, ma Berlinguer non l'avrebbe mai fatto, ma lasciamo perdere questo. Il punto è che tu fai una truffa, una truffa, dici all'elettore che sei candidato e poi non vai a Bruxelles. Perché le persone, dice, Severnini alla fine non gli importa niente? Perché non si aspettano più niente dalla politica. Quindi non si aspettano neanche che dicano la verità. Però quando tu metti il nome truffa sulla scheda, poi te sei ministro e ti fai la veranda abusiva nella tua villa a Forte dei Marmi, e così per gli rami, alla fine, perché un italiano dovrebbe pagare la multa o fare lo scontrino? Allora, alla fine il problema è che il discredito della politica è talmente alto che diventa un patto che cementa la società. Cioè, tu freghi, tu rubi, rubo un po' anch'io, siamo tutti bene così e io continuo a votare chi mi fa rubare. Perché alla fine il messaggio che passa è quello, un liberi tutti, capisci, dalle regole. E me è un macello. Se nessuno si oppone, se la Schleinan non si oppone, se Calenda non si oppone, e non fa una conferenza stampa per dire io mi vergogno di questa cosa e mi rifiuto di farla, è ovvio che poi alla fine gli italiani non ne frega niente. Perché intanto è tutto magna magna, come diranno loro, no? Siamo diventati la casa della libertà. Credo state dicendo la stessa cosa, però vorrei... Esattamente. Esatto, sì. E non stavo, Corrado, scusami, non stavo sminuendo la cosa. No, dico, non gli importa gli italiani perché non si aspettano più niente dalla politica, purtroppo. Stiamo dicendo la stessa cosa, e la cosa mi rattrista molto. Hai ragione. Anche perché poi la stensione è molto alta. Pino Corris, e aggiungo però anche, per fare un passo avanti, un'altra domanda su un personaggio che...